Ebbene sì ragazzi, dopo tanti rumors e tante notizie al riguardo, PS5 Pro è puramente realtà. Se ne è parlato tanto ragazzi in questo ultimo periodo, esce o non esce, l'annuncia o non l'annuncia, ebbene sì, secondo Not Insider, Tom Henderson, che è molto vicino a casa Sony, dove ha confermato tutti i rumor che si sono stati diffusi in questi periodi di una ipotetica PS5 Slim, che ragazzi tutto sommato Slim non è, è solo il 30% più sottile, ha lasciato delle dichiarazioni in questi giorni che riguardano le componentistiche di questa flammigerata PS5 Pro, che ve li leggo subito, che monterebbe una CPU da 8 Core Zen 2 a 4 GHz, più una GPU RDNA 3 a 2,8 GHz, e per chiudere in bellezza ragazzi, dulcis in fondo, monterebbe una memoria di 16 GB DDR6, con una velocità di 587 GB al secondo e 18000 MT al secondo. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa mi state nei commenti, questa PS5 Pro è finalmente realtà, sicuramente ne sentiremo parlare a inizio o a metà 2024, io penso che verrà annunciata a metà 2024 e uscirà, secondo me, a inizio anno 2025. Niente ragazzi, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, commentate, mettete un like, e noi ci vediamo alla prossima. PS5 Pro ragazzi, è puramente realtà, e da quello che dicono, è veramente, è veramente una console potentissima. Alla prossima!